Cosa sono le acne cheloidali snucae? L'acne cheloidali snucae è una condizione della pelle causata dall'infiammazione cronica dei follicoli piliferi intorno alla testa, al collo e al mento. Questa condizione è più probabile tra gli uomini, in particolare negli uomini con capelli corti e rigidi e pelle più scura. Può causare cicatrici significative e placche di perdita di capelli. I trattamenti sono disponibili e un dermatologo può aiutare un paziente a sviluppare un piano di trattamento appropriato. Nei pazienti con acne cheloidali snucae, la follicolite cronica si sviluppa a causa di peli incarniti. Questo tende a verificarsi come risultato della rasatura. La rasatura lascia i capelli con una punta molto affilata che può irritare la pelle se i capelli ricrescono a formosi o storti. L'infiammazione causerà la comparsa di una protuberanza rialzata. L'urto può riempirsi di pus e altri fluidi di solito è rosso e doloroso. Nel tempo, l'irritazione cronica alla pelle distruggerà i follicoli, rendendo impossibile la crescita dei capelli, e i pazienti avranno una pelle ruvida e dolorosa. L'acne cheloidali snucae formerà placche di tessuto irritato. I pazienti possono notare scaglie e croste intorno alla zona infiammata e la pelle può sembrare calda e ruvida. Comincia spesso intorno alla parte posteriore della testa, specialmente vicino alla piega del collo, e può diffondersi se il paziente non prende misure per affrontarlo. La prima linea di trattamento è iniezioni di steroidi o creme per frenare l'infiammazione. Una volta che la pelle ritorna a una condizione più normale, il paziente può intervenire sulla prevenzione delle recidive. Gli uomini sono più a rischio di acne cheloidali snucae perché tendono a tagliare o radersi i capelli molto corti per gestirlo. Un'opzione è cambiare le pratiche di toilettature e consentire ai capelli di crescere in modo più naturale. Per i pazienti che non possono farlo, è importante lavare accuratamente la pelle con acqua calda e sapone prima di qualsiasi attività di toilettatura. Il calore ammorbidisce la pelle e apre i follicoli, mentre il sapone rimuove lo sporco e gli organismi che potrebbero causare follicolite. Si consiglia di utilizzare un rassoio affilato o un tagliaunghie e di evitare di condividere prodotti per l'igiene personale. Prestare particolare attenzione ai regimi per capelli e pelle dovrebbe impedire all'acne cheloidali snucae di riacutizzarsi. Il paziente può essere lasciato con cicatrici significative se la condizione originale è consentita di progredire. Con il tempo, la pelle e i capelli possono guarire, a condizione che il paziente prevenga l'infiammazione. Per le persone preoccupate per le placche e le toppe cicatrizzate, cambiare gli stili di capelli può aiutare con l'occultamento mentre la pelle si riprende.